Buona domenica. Oggi, 10 dicembre, è la seconda domenica di avvento. La frase del Vangelo che vogliamo meditare dice così «Dinanzi a te io mando il mio messaggero». Il Battista è mandato da Dio incontro al suo popolo per portare una parola di conversione e ci insegna l'importanza di andare incontro agli altri, di ridurre le distanze fisiche e mentali che ci separano. La parola che ci consegna questo Vangelo per questa settimana di avvento è incontrare, andare incontro, farsi incontro. È un tempo bello e prezioso per incontrare le persone, per incontrare le situazioni ed anche per incontrare Dio che ci viene incontro. «Dinanzi a te mando il mio messaggero», ci dice il Signore.